Prima di salutarci in questa puntata di 2024 vogliamo parlare del mercato ICT in Italia che cala anche nel 2011 e le previsioni per il 2012 non sono certo positive. Ne abbiamo parlato dopo la presentazione dei dati Assinform di questa settimana, il 43esimo rapporto Assinform, abbiamo parlato con il presidente dell'associazione che rappresenta il mondo ICT in Italia, Paolo Angelucci. Il mercato ovviamente non si è comportato molto bene, nel senso che il mercato dell'ICT è sceso di circa il 3,5% quest'anno con un dettaglio abbastanza analogo tra le TLC, il 4,1 e l'IT 3,6. Questa situazione ovviamente non è favorevole perché se le aziende non investono in CIT non investono in innovazione. Noi da quest'anno però abbiamo un po' modificato il punto di vista perché abbiamo allargato il mercato ICT classico, quello tradizionale che come ho detto scende pesantemente, con nuovi settori o contigui o non classificati prima che ora hanno forte componenti ICT. Questo ha fatto sì che il mercato è salito dai 58 milioni del mercato tradizionale ai 69 di quello allargato, il global digital market come lo chiamiamo noi. E oltretutto identificando a questo punto due trend di mercato diametralmente opposti, nel senso che le componenti tradizionali diminuiscono in due anni di circa il 6%, le componenti innovative aumentano al contrario in due anni di più del 13%. Quali sono queste componenti? Le componenti innovative sono o quelle proprio nuove, tipo i tablet, tipo il software del web, tutta quella che viene chiamata l'internet of things, quindi cose che sono proprio nuove, è nata adesso, sia l'allargamento di settori invece conosciuti ma che si stanno trasformando in settori ICT. Uno per tutti è il settore per esempio dell'aridiosorveglianza, che prima era un fatto puramente analogico, oggi è completamente digitale ed è gestito a livello di sistema informativo. Stesso discorso tutta la parte tecnologica, ICT, delle apparecchiature medicali. Quindi sono tutte cose che sono nuove per la nostra classificazione ma che in realtà poi insistono sullo stesso per il modo di occupazione. Abbiamo aggiunto poi, oltretutto perché è una componente fondamentale, il settore dei contenuti digitali che prima non c'era, ma che di fatto anche essi ovviamente hanno questa forte componente digitale. Senti, è pur vero che se uno guarda a una parte di quella che voi definite componente tradizionale, buona parte di questa componente, vale a dire software per le aziende, investimenti in server eccetera eccetera, è una componente che darebbe un impulso molto forte in termini di competitività alle imprese e al paese. Ci puoi spiegare quale rapporto c'è tra questo investimento delle imprese e la competitività internazionale sia delle imprese che del paese? Allora direi che dovremmo spaccare l'investimento ICT delle imprese in due aree, diciamo le spese di funzionamento e le spese per l'incremento del business. Le spese di funzionamento, ci sono molte di quelle che hai ricordato, le spese per la contabilità, le spese per la gestione degli ordini, le spese per la stessa infrastruttura, sono delle spese di funzionamento. Al contrario, molte delle aree innovative sono proprio relative alle aree di business, quindi il motivo per cui le imprese dovrebbero investire in ICT è perché se guardano l'investimento dal punto di vista del business non può che essere facilitato se si lavora con questi paradigmi che abbiamo appena detto. Quindi stare più vicini ai clienti, lavorare tramite web, utilizzare la parte multimediale, pensi solamente alla possibilità di far vedere un prodotto su web anziché mandare un catalogo, oppure ancora la gestione domandizzata della forza vendita. Tutte queste attività consentono di sviluppare il business, quindi quello che le imprese dovrebbero guardare è quale apporto possono dare le attività di tipo ICT allo sviluppo dei processi che condizionano o amplificano il business. Però lei ci diceva che esiste un rapporto misurabile tra investimento in ICT e competizione. Assolutamente sì, esiste un diagramma assolutamente empirico, ma ormai che ha 20 anni di vita, dove si vede che sia gli stati che le imprese che investono di più in ICT sono quelle che crescono di più. C'è l'America che stabilmente da anni è in un ipotetico diagramma di rapporto tra spesa in ICT alta e crescita, sempre in altra destra perché investe moltissimo nell'ICT. Molte imprese moderne che hanno fatto, e sono fiore all'occhiello del Made in Italy, investono in ICT il doppio di quello che investe le imprese. Le imprese italiane investono in ICT intorno all'1% del fatturato. Queste imprese avanzate, manifatturiere, attenzione, non servizi, servizi è un altro discorso, investono tra il 2-3%. Quindi vuol dire che investire in ICT, ICT buono ovviamente, è sicuramente un vantaggio competitivo per l'azienda. Ed è tutto per questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Potete scriverci durante la settimana, 2024.it, potete anche utilizzare Facebook, è la nostra pagina su Facebook, la trovate molto facilmente scrivendo 2024, oppure potete utilizzare Twitter per seguire i lanci di 2024, la trovate facilmente, chiocciola2024 underscore R24, oppure potete seguirmi anche con chiocciola e underscore Pagliarini, comunque cercando Enrico Pagliarini mi trovate su Twitter. Insomma ci sono tanti modi per interagire, per parlare con 2024 e seguirci anche durante la settimana. Ci risentiamo sabato prossimo in onda alle 15.30 e fino alle 17.00. Un buon ascolto con i nostri programmi in podcast.